Torna per la sua dodicesima edizione il Digital Meet, la più grande kermessa nazionale di alfabetizzazione digitale che negli anni è entrata nell'immaginario collettivo del paese grazie a un modello capace di dare voce ai grandi nomi dell'evoluzione tecnologica. Noi ci battiamo per l'alfabetizzazione digitale da 12 anni e continuiamo la nostra battaglia. Nonostante l'Italia navighi sempre nelle peggiori posizioni a livello europeo, oggi siamo 24-25 esimi per bloccare le classifiche, però la nostra battaglia significa portare l'alfabetizzazione digitale in tutte le regioni italiane, dialogando, spiegando non solo ai giovani ma anche alle persone più anziane l'importanza del conoscere e cavalcare l'onero, farsi travolgere da l'onero. Farete una proposta al governo, a chi ci comanza per poter portare la digitalizzazione a scuola, che diventi una materia. Questo è assolutamente importante, lo è stato per insegnare l'italiano e l'italiana negli anni 60, negli anni 90 l'inglese che è sbarcato nelle scuole in maniera prepoteca, adesso è la volta del digitale, una materia fondamentale per comprendere il futuro. Speriamo che l'Italia non perda questa opportunità. Grazie. Grazie.